Questa è la seconda edizione che va ad aggiungersi ad un'edizione che fu realizzata alcuni anni fa in maniera comunque simbolica e non strutturata, invece questa è la seconda edizione strutturata del Pedibus. Lo scorso anno abbiamo compiuto un grande lavoro di intesa con l'Istituto Comprensivo 5 e io ho detto in maniera entusiasta che non solo non raddoppiamo ma addirittura triplichiamo. Se l'esperienza dello scorso anno ebbe grande successo tra i genitori, tra i bambini e tra tutti coloro che hanno aderito al Pedibus noi quest'anno addirittura saremo presenti in altri due istituti comprensivi, l'Istituto Comprensivo 1 e l'Istituto Comprensivo 8 per intenderci nelle scuole di Borgo Marino, nelle scuole di Via del Concilio e nelle scuole di Madonna del Fuoco che appartengono all'Istituto Comprensivo numero 1. Quindi si aggiungono altre sei scuole e si aggiungono tanti altri bambini entusiasti di questo modo di raggiungere la scuola un modo ecologico, un modo non impattante, un modo salutare, un modo che crea un bel senso di appartenenza e di amicizia tra i bimbi. Lei tiene molto alle politiche dell'ambiente e cominciare a sensibilizzare questi bambini sicuramente è un modo importante anche per arrivare ai genitori. E la cosa più bella è vedere l'entusiasmo dei bambini e io dico che in realtà si crea una sinergia anche con i genitori perché i bambini non aderiscono al progetto se non hanno anche il pieno assenso e la piena consapevolezza dei genitori. Questo è un elemento fondamentale, una variabile fondamentale. Oltre a questo occorre la consapevolezza delle scuole e abbiamo registrato la piena consapevolezza delle scuole insegnanti, docenti, presidi, dirigenti quindi scolastici e poi i volontari che accompagnano i bambini, i percettori di reddito di cittadinanza. Dietro questa manifestazione, questa organizzazione c'è un lavoro che dura mesi anche di predisposizione di infrastrutture perché bisogna avere stalli di carico e scarico, la segnaletica adeguata, tutto per garantire la massima sicurezza dei bambini.